ciao a tutti benvenuti o bentornati sull'angolo di solidori per il consueto video quotidiano oggi è domenica e quindi il video è online adesso alle ore 15 e 30 tutti i sabati tutte le domeniche ci spostiamo alle 15 e 30 così come i giorni festivi invece da lunedì al venerdì ci vediamo alle 17 e 30 detta questa info sugli orari di programmazione che sono appunto cambiati finalmente mi vedete un po più riposata negli ultimi video mi avete detto in tantissimi che ero stanchissima ed era la verità quindi la cura di bellezza che mi sono fatta è dormire 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 ho fatto una bella dormita di 10 ore quindi mi sono svegliata molto più fresca e pimpante e quindi siccome avevo del tempo questa sera da dedicare al video o appunto di domani perché sto girando che è sabato sera ho detto facciamo il video che mi ero ripromessa già un po di tempo fa anche io mi sono un po presa tardi è praticamente ormai tempo di quagliare come dico io la brodaglia cioè di arrivare al dunque ragazzi c'è poco tempo i regali vanno ormai comperati non si può più aspettare un solo giorno quindi dopo che vedete questo video segnatevi delle idee che vi sono piaciute e filate nei negozi infatti molte delle idee che vi racconterò le potete trovare direttamente in store e quindi potete comprarle immediatamente altre le troverete come vedrete su amazon e quindi spedizioni veloci perché chi ha amazon prime soprattutto magari lo fate in occasione del natale riceve subito le cose in 24 ore e altri siti che magari vi nominerò ho visto che dicono che se fate l'ordine entro il 18 a mezzanotte potete ricevere tutto alz riceverete tutto entro insomma al giorno di natale quindi in tempo per fare il regalo di natale spunto a questo video mi è arrivato anche da un video che ha fatto ale della penultima verità qui su youtube ossia ale il marito di vittoria di trucchi punto tv che è una mia cara amica che aveva caricato sul canale appunto di vittoria il video sui regali di natale che ha avuto tanto successo ve lo lascio in info box che può essere un altro insomma un'altra fonte di idee allora in questo video non vi citerò i classiconi perché sapete che gli uomini non amano secondo il mio parere ricevere profumi abbigliamento gli uomini sono piuttosto tecnologici amano ricevere regali che riguardino le loro passioni che sono magari lo sport e appunto la tecnologia e meno regali che a noi donne magari piacerebbe fare ma che secondo me a loro piace meno quindi no pochette di profumi creme maglioni cose del genere perché secondo la mia esperienza sono meno gradite ma andiamo a puntare su idee più tecnologiche dei gadget delle sfiziosità delle cose che ho visto e che ho detto beh questa è veramente allora innanzitutto vi faccio vedere dei regali che io ho preso a pablo io farò un natale low cost quindi non andrò a spendere grandi cifre è un'idea che mi è sembrata veramente giusta è il chromecast credo che si che si dica così è un dispositivo di streaming di google in pratica questo aggegetto per dirlo in parole povere comprensibili a noi femminucce perché questo è un video che guarderanno le fidanzate più che ovviamente i maschietti perché sono i regali che noi magari fidanzate dobbiamo fare ai nostri mariti fidanzati e via dicendo questo è un dispositivo che come vedete si collega alle tv e praticamente si connette con il dispositivo nel quale avete la visione in streaming dei programmi quindi magari avete che so un film anche semplicemente caricato sul computer volete vederlo sul televisore quindi sullo schermo del televisore con questo aggeggio connettete i due dispositivi oppure ancora anche il cellulare oppure l'ipad insomma dico l'ipad per non dire insomma una tavoletta che può essere anche un android io ovviamente ho apple quindi mi viene da pensare in termini di ipad e iphone tutte le spiegazioni che vi darò non sono particolarmente tecnologiche ma quindi siccome troverete in infobox il link a tutti i prodotti che vi citerò sarete voi poi ad andare a vedere insomma informazioni più dettagliate sul prodotto da persone che ve le sapranno spiegare meglio di me io diciamo vi do l'idea che ho trovato in giro e questo io ce l'ho fisicamente da farvi vedere perché è appunto il mio regalo per pablo l'ho preso alla media world e costa soltanto 39 euro o 39,90 non lo ricordo mi sembra un'ottima idea regalo un'altra idea regalo che anche in questo caso io ho comperato sono praticamente le cuffie per guardare la tv o comunque usare il computer guardare il cellulare insomma qualsiasi dispositivo senza rompersi le scatole a vicenda io e pablo a letto ci guardiamo rispettivamente io dal mio ipad dei miei video di youtube lui o gioca ai giochini o si guarda un film dal pc e ha sempre bisogno quindi delle cuffie perché ognuno di noi due vuole isolarsi nel proprio mondo in questo caso io le ho prese vedete col cavo perché mi ha tantissimo questo modello verde militare le ho prese al media world le ho pagate una quarantina di euro ma ce ne sono veramente tantissime anche wireless quindi ovviamente senza il cavo per cui insomma se anche al vostro fidanzato piace ascoltare musica o comunque a casa si guarda le partite alla tv e in quel caso vi serve il wireless perché così si connetterà alla tv in maniera appunto senza avere i fili ma insomma questo poi lo vedrete voi contate che wireless costano un pochino di più ma mi sembrano veramente un'ottima idea quindi se non le ha già potreste pensare a questo come regalo sapete che è uscito nei cinema l'ultimo episodio della saga di star wars ci sono tantissimi appassionati pablo è uno di quelli e quindi il mio consiglio se il vostro fidanzato vostro marito il vostro uomo è uno di quelli che impazzisce per la saga di star wars comprate gli dei gadget a tema io sul sito che vi lascerò sempre in info box che si chiama troppo togo ho trovato veramente tantissime idee una bellissima che costa credo sui 25 euro è la tazza di star wars è una tazza termica in acciaio con scritto la forza è potente in lui l'ho letto qua perché me lo sono appuntato ragazzi io non sono fan di star wars è praticamente questa tazza il manico dove praticamente c'è un pulsante ed è automescolante quindi mescola fa un vortice mescola i liquidi quindi il caffè e il latte quello che insomma lui berrà lo mescola o in senso orario o in senso anti orario però praticamente è come una tazza per far vedere che con la forza del pensiero fate creare il vortice in realtà c'è un tastino nel manico e si mescola in questo modo e altri gadget sempre nello stesso sito che mi hanno colpito sono ad esempio la cappatoio di star wars che costa credo sui 39 e 90 oppure delle lampade bellissime sia da muro che da tavolo a forma di casco dei guerrieri di star wars non so esattamente oppure a forma di dart vader credo che si dica così perdonatemi sono idee poi vanno assolutamente corrette riviste corrette anche nella pronuncia dei personaggi che io non conosco comunque mi sembravano veramente molto carine io vi segnalo questo sito che è appunto troppotogo.it credo non so comunque lo trovate in infobox ma voi avrete l'accortezza magari di guardare anche in giro io voglio segnalarvi delle idee che poi magari potete trovare nei vari negozi sapete quelli che vendono tutti i gadget puntate su quelli ragazzi se invece di star wars per esempio il vostro fidanzato è un grande fan di fumetti o di altri personaggi per esempio pablo è pazzo oltre che per star wars per hulk qualunque cosa a forma di hulk che io gli regali gli piace tantissimo perché lui è un fan del film soprattutto degli eroi della marvel in genere ma proprio di hulk in particolare quindi io vi dico puntate su queste passioni fumetti, eroi della marvel, film perché sono sicura che almeno un personaggio sarà nel cuore del vostro lui grazie un classicone ragazze se non avete ancora Netflix che magari insomma lo avete già ve lo siete comperati di comune accordo però se non avete ancora l'abbonamento a Netflix e credo che come un po' tutti noi anche il vostro lui sarà un maniaco di film e telefilm soprattutto serie tv e telefilm su Netflix è il momento magari di regalargli l'abbonamento è una cosa velocissima da fuori lo potete fare anche online quindi non è un qualcosa per cui dovete perdere particolarmente tempo e in un attimo avete risolto il vostro regalo altro regalo ragazzi il biglietto della squadra del cuore quindi magari quella partita importante che può essere il calcio ma può essere anche un altro sport se magari è appassionato di arti marziali come per esempio potrebbe essere Pablo informatevi se ci sono degli incontri particolarmente importanti potrebbe anche non essere adesso in questo periodo magari un biglietto per un evento anche fra qualche mese però insomma sia che sia tifoso di calcio che di qualche altro sport potrebbe essere veramente un'idea ottima quella di regalargli il biglietto per l'evento sportivo del cuore un'altra idea regalo che mi sento di consigliarvi perché io lo adoro ed è un qualcosa di tecnologico quindi potrebbe essere utile anche al vostro lui è il caricabatterie sceglietelo potente in questo caso vi straconsiglio di non andare nelle catene fisiche perché costano veramente tantissimo io ne ho preso tanti e quelli che ho preso non è sempre troppo poco potenti il mio è addirittura da 26.800 mAh fa tipo 10 cariche di iPhone e carica addirittura anche il PC è un po' pesantino è un po' grande però ragazzi non c'è paragone con tutti gli altri caricabatterie dell'universo perché con questo soprattutto se sono una persona che viaggia se sta tutto il giorno fuori questo qua gli salva veramente la vita anche perché adesso siamo pieni di dispositivi da ricaricare che sono dal computer al cellulare le tavolette e varie robe questo praticamente ha varie uscite vedete USB gli risolve la vita e vi lascerò il link anche di questo perché è reperibile su Amazon a me lo ha inviato un sito quindi è una cosa con cui mi trovo stra bene e non volevo non inserirla quindi volevo inserirla se il vostro fidanzato va in scooter sappiate che la TomTom ha fatto un navigatore specifico per il motorino me lo sono segnato qua si chiama TomTom Vio costa sui 130 euro in pratica si monta se non mi ricordo male sullo specchietto può essere utilizzato anche touch anche con i guanti potrebbe funzionare basta che abbia dei guanti touch insomma è molto comodo perché ovviamente chi gira il motorino non può utilizzare un navigatore normale col cellulare in mano rischia di cadergli e di fare i macelli questo è proprio specifico per lo scooter per lo scooter lo scooter al motorino quello che sia si lega allo specchietto si aggancia allo specchietto ed è praticissimo quindi un'ottima idea del regalo se il vostro fidanzato è un patito di tecnologia e utilizza cellulare o comunque ipad tavoletto insomma android eccetera un'altra idea del regalo che mi è piaciuta che ho trovato in giro è la tastiera virtuale della Oregon Scientific vi lascerò anche di questa il link perché non mi ricordo se abbia un nome specifico però è praticamente una specie di roba del genere per capirci voi schiacciate un tastino e proietta sulla superficie del tavolo una tastiera appunto luminosa nel quale assolutamente potete andare a digitare le mie spiegazioni so che sono sommarie perché io non sono certamente un'esperta di tecnologia anzi sono la persona più lontana dalla tecnologia però questa cosa secondo me piacerà tantissimo il costo è sui 90 euro se non sbaglio anche di questa trovate il link così vi potete informare meglio leggere le specifiche tecniche molto meglio di quello che posso dirvi e raccontarvi io un'altra idea che mi è piaciuta tantissimo è se il vostro fidanzato è un amante del caffè la adorerà è la macchinetta per il caffè portatile wakako mi pare che si chiami costa 85 euro una specie di termos ma come al solito vi lascerò la foto compatibile anche con le cialde dell'anespresso e si potrà fare un caffè cremoso espresso ovunque in giro per esempio in ufficio se non c'è la macchinetta del caffè molto spesso gli uffici hanno i microonde quindi magari scalda l'acqua perché penso che serva l'acqua calda quindi magari scalda l'acqua nel microonde la versa dentro inserisce la cialdina schiaccia e questa gli fa un caffè dalle recensioni ho letto che il caffè viene buonissimo come quello della macchinetta diciamo nespresso o comunque dalla macchina da caffè di quelle casalinghe con le cialdine e mi sembra veramente un'idea molto carina anche perché è abbastanza compatta una roba del genere una sorta di di termos come forma altra idea tecnologica e questa serve a tutti perché tutti usiamo il cellulare sono gli auricolari della cellular line che non mi ricordo come si chiamano ma anche qui vi ripeto c'è tutto in infobox sono degli auricolari piccoli ma così piccoli da essere praticamente invisibili e di questi aspettate che vi voglio raccontare perché mi sono tenuta il link in modo da dirvi esattamente la particolarità allora ho trovato costano 89,90 circa 90 euro sono stra piccoli vedrete adesso la foto si infilano proprio nelle orecchie e spariscono sembrano due tappini per i rumori ognuno ospita il microfono e il tasto di risposta per le chiamate e un led che indica lo stato della batteria hanno tre ore di autonomia e ogni stand by ogni auricolare arriva a funzionare per 30 ore sono dotati di una sorta di custodia rigida rotonda nel quale si vanno ad infilare che funziona come una vera e propria power bank tascabile da 2200 miliardi permettendo di ricaricare gli auricolari per ben 15 volte quindi il totale di utilizzo diventa di 45 ore quindi veramente utilissimi a tutti quelli che viaggiano che hanno sempre le chiamate magari in treno eccetera e non vogliono fili e robe soprattutto adesso d'inverno con le sciarpe cappelli eccetera eccetera questo fidanzato è uno sportivo puntate su qualcosa che riguardi il suo sport quindi in questo caso sarò generica ma adesso vi farò vedere anche delle cose che mi hanno un po' colpito però comunque ognuno di voi saprà su che cosa puntare se magari è un appassionato di bike gli potreste regalare una di quelle maglie specifiche per fare per fare bike che hanno praticamente la tasca dietro per mettere la borraccia o dei pantaloncini adatti quelli con il cuscinetto per il sellino oppure ancora se gioca a calcio o le scarpe adatte se gioca se farti marziali magari guantoni insomma sono sicura che pensando allo sport che appassiona il vostro lui potrete trovare delle attrezzature che magari sono quelle che vi ha più volte magari anche nominato che gli servirebbero o gli mancano ancora e puntare su quelle un regalo abbastanza low cost perché l'ho visto intorno ai 20 euro su Amazon è il berretto di lana con gli auricolari bluetooth incorporati quindi praticamente è un berretto che è dentro la lana inseriti delle casse per cui si connettono con il cellulare che lui terrà magari nell'apposito marsupio quando va a correre e si connette via bluetooth e quindi praticamente sentirà la musica in questo modo questa è un'idea veramente carina perché se lui corre la musica sapete è una droga cioè non si può correre senza la musica e quindi insomma saranno innanzitutto adesso che fa freddo ha bisogno sicuramente del berretto quindi mettersi il berretto gli auricolari è una rottura in questo caso risolve un altro regalo fitness fighissimo che mi è piaciuto troppo io questo qua lo vorrei prendere a Pablo è nel sito SBS ma ho visto che si trova anche se non sbaglio su media world anzi sono quasi sicura di averlo visto su media world sempre infobox mi raccomando è la corda per saltare wireless che si chiama smart skip rope e praticamente immaginate la corda per saltare le maniglie della corda ecco due maniglie di questo tipo che hanno praticamente una sorta di cordino alla fine e questo cordino gira quando si va a saltare ed è wireless ed si connette con il proprio cellulare che controlla il numero di giri che si fanno le calorie bruciate ed è compatibile ovviamente con i dispositivi android e apple si può poi connettere appunto la corda per saltare all'applicazione gratuita go live e in questo modo si misura quante calorie si sono bruciate durante l'attività e insomma si può utilizzare in questo modo la corda anche a casa perché ovviamente fare la corda a casa succede che spaccate qualcosa invece in questo modo potete usarla anche voi magari ne potete approfittare in questo modo non ha la corda ha soltanto le manopole diciamo della corda e può utilizzarlo tranquillamente anche in do altro regalo che pare gettonatissimo tra coloro che amano giocare soprattutto ai videogiochi sono i visori per la realtà virtuale ovviamente sono collegabili sia i cellulari che le station diciamo tipo la playstation per giocare con i giochini e ce ne sono di varie fasce io ne ho trovato tre uno è il Samsung Gear VR che costa 129 euro è un visore che supporta scusate se leggo ma sapete che non è che sia proprio un genio in tecnologia supporta gli smartphone dell'azienda appunto Samsung e basta quindi deve avere un Samsung per comprare il Samsung Gear VR integra anche un controller per poter interagire con la realtà virtuale e appunto come vi ho detto ha una visione di 101 gradi e ha delle lenti da 42 mm quindi pare essere veramente particolarmente accurato come dispositivo ed è appunto da 129 euro poi se invece volete spendere meno ma comunque aggiungere un regalo o avete un budget veramente low cost come me potete optare per il Google Cardboard è praticamente un visore completamente in cartone che però ha due lenti che permettono di utilizzare le applicazioni della realtà virtuale sullo smartphone è il visore VR low cost più venduto nella rete perché la spesa varia tra i 15 e i 25 euro a quanto pare a seconda del modello che scegliete da acquistare e però comunque le recensioni dicono che è un dispositivo che comunque funziona bene è perfetto per muovere i primi passi nel mondo della realtà virtuale e quindi insomma può essere un regalo low cost ma sempre di questa tipologia invece di una fascia diciamo sempre sui 100 euro ed è 109 euro è il Daydream View ed è sempre un modello di visore VR realizzato da Google rispetto al cardboard che abbiamo appena menzionato è realizzato però in tessuto con la classica forma diciamo dei visori VR insomma dice per utilizzarlo cosa dovete fare prendere lo smartphone e inserirlo nel vano presente nella parte frontale attenzione a avere un cellulare che lui abbia insomma un cellulare che è compatibile con questo dispositivo e sono Pixel Pixel 2 Galaxy Note 8 Galaxy S8 Zenfone AR Axon 7 Mate 9 Pro Moto Z e Moto Z2 praticamente contate che io vi ho letto una roba di cui non so veramente di cosa sto parlando però potrebbe essere utile a voi che mi ascoltate le applicazioni possono essere scaricate direttamente dal Google Play Store riguardano i più svariati argomenti ci sono documentari videogame film insomma potrebbe essere veramente un'idea carina se il vostro lui come il mio è super appassionato di tecnologia ovviamente integra anche il controller che può essere utilizzato con i videogame e costa come vi ho detto 109 euro se il vostro lui possiede un iPhone questo è un regalo top se non lo possiede già si tratta degli airpods gli auricolari super super tecnologici della Apple costano 179 euro e dice cambieranno per sempre il modo in cui usi gli auricolari perché è magia senza fili quando li estrai praticamente dalla loro custodia della ricarica all'istante si accendono si connettono con il dispositivo ovviamente Apple Apple Watch iPhone iPad eccetera Mac l'audio parte non appena tu li indossi e va in pausa quando tu li levi fanno in pratica tutto loro in automatico se vuoi regolare il volume cambiare canzone telefonare o chiedere indicazioni stradali basta un doppio tap e attivi in pratica Siri hanno poi il chip Apple W1 quindi sanno quando li indossi perché i sensori ottici è un accelerometro di movimento praticamente vanno a rilevare il contatto con l'orettio cioè proprio questi li vorrei troppo il chip attiva anche automaticamente il microfono indirizza l'audio a entrambi gli auricolari oppure solo a quello che stai usando quando parli al telefono o con Siri un secondo accelerometro si affianca ai microfoni beamforming oddio per escludere i rumori di fondo ed enfatizzare invece il suono della tua voce insomma dice è un chip a basso consumo geniale questo che è incluso in questi auricolari perché riesce anche a gestire la batteria in modo che praticamente gli airpods raggiungono un record di ben 5 ore di ascolto ininterrotto con una sera carica la stessa custodia ti permetterà di ricaricarli più volte per un totale di oltre 24 ore di ascolto ti serve una ricarica al volo basteranno 15 minuti nella custodia e avrai altre 3 ore di autonomia insomma un vero gioiello quindi se parliamo di auricolari al top prima abbiamo visto quelli di cellular light che costano circa 90 euro ma che sono dei normali auricolari che diciamo che hanno il fatto di essere invisibili qua si sta parlando invece di prestazioni al top sempre per i fidanzati che viaggiano e che magari hanno bisogno di portarsi dietro il computer può essere per esempio un'idea se utilizzano anche l'ipad o ripeto la tavoletta android paritetica all'ipad la tastiera arrotolabile l'ho fatta lg si chiama lg rolly keyboard costa intorno agli 80 euro se non mi ricordo male si l'ho vista appunto su amazon è praticamente questa tastiera che si arrotola è perfettamente compatibile con i tablet con gli smartphone ma anche con pc e con mac è praticamente un modello con 5 righe di tasti e ha praticamente tutti i caratteri così come tutte le funzioni diciamo più comuni come controllo volume riproduzione multimediale navigazione la peculiarità è quella di arrotolarsi in sostanza intorno a un prisma pentagonale ridurre al minimo l'ingombro ad alimentare questa tastiera c'è una batteria che lg promette addirittura essere sufficiente a 3 mesi e mezzo di autonomia con un utilizzo nella media e appunto la trovate su queste insomma erano tutte le mie idee regalo soprattutto come avete visto focalizzate su dispositivi che abbiano un qualcosa di tecnologico perché secondo il mio parere sono quelli che fanno letteralmente impazzire i maschietti io so che le mie spiegazioni sono state veramente pessime perché io tante cose so fare nella vita probabilmente ma questa no per cui io spero veramente soltanto che siano stati degli spunti per poi informarvi presso il negozio presso chi meglio di me sicuramente ci vuole poco saprà spiegarvi le caratteristiche tecniche di questi di queste idee regalo e comunque ripeto c'è l'info box che vi soccorre che vi aiuta spero che il video vi sia piaciuto se così è stato lasciatemi lasciatemi un like se avete amiche che hanno bisogno di un consiglio per il regalo al proprio lui mi raccomando indirizzatele sul mio video e noi ci vediamo domani con un nuovo video un bacio e ciao 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 Grazie a tutti.